Sicuramente ricordo bellissimo, un ragazzo che stava insieme a noi, insieme alla squadra, in ogni cosa che facevamo. Era bello scherzarci insieme, anche dargli fastidio durante le sue registrazioni. Giornate tristissime perché sono cose che non devono mai succedere. Lo facevo spesso quando si metteva a laterale o nelle dirette per registrare un pezzo sul nostro allenamento. Magari sulla fine gli tiravo le pallonate così doveva ricominciare da capo. Era bello scherzarci sopra perché l'atmosfera che si crea anche quando sei qui a Milanello con tutti diventa speciale. Star qui oggi a ricordare questi momenti fa piacere, ma ciò che resta è che Claudio non c'è più. Bisogna fare onore alla sua memoria, al suo modo di essere, al suo modo di porsi, al suo modo di fare il suo lavoro e anche al suo ruolo di uomo, di padre, di genitore. Io ho conosciuto anche quel lato insieme alla famiglia e era veramente un ragazzo speciale. Credo che giocheremo prima per lui e poi la conseguenza sarà il risultato. Daremo il massimo per onorare la sua memoria, ma questo lo faremo in ogni gara che affronteremo di qui in futuro, ma anche in ogni allenamento che faremo. Claudio era uno di noi, faceva parte della squadra e oggi sono momenti tristissimi. Vi chiedo solo di onorare questo microfono perché il modo in cui lo faceva lui era unico.